Ehi, benvenuto nel mio nuovo video. Ti consiglio di passare nella descrizione dove trovi tutti i miei social, soprattutto passa dal sito Viola dove streamo tutti i giorni, Instagram per rimanere aggiornato su video e live e Discord per chattare con me ogni tanto. Inoltre ti consiglio di iscriverti al canale dato che ho scoperto attraverso YouTube che molti di voi non sono iscritti. Detto questo, buona visione! E ciao gente, ben ritrovati in questo nuovo video di Brawl Stars. E' da un po' che non ci vediamo qua sul canale con Brawl Stars. Bene, vi ho portato questo video così per informarvi un po' riguardo al mio profilo, come sta andando. E in effetti non sta andando un gran che bene perché sono fermo a queste coppe da un po' di tempo, ma perché non ho giocato. Veramente ragazzi, non ho toccato Brawl in questi giorni per motivi di scuola o comunque per motivi scelti da me, ecco. Ma allo stesso tempo mi sto divertendo molto a portarvi qua sul canale varie tipologie di game. Oggi ho deciso di portare Brawl Stars perché andiamo a sbloccare alcuni oggetti speciali che ho qua accumulato nel Brawl Pass. Andiamo a sboccare fino a livello 70, tra cui un pacchetto di razioni, re-low, numerose reazioni e anche un sacco di monetozze. Detto prima di tutto, qua nel negozio siamo a posto, non abbiamo niente da conquistare, da prendere qualcosa. Sono arrivata a 30.500 coppe, quindi ottimo. Guardiamo se riesco ad arrivare a 31.000 entro lunedì, anche se la vedo un po' difficilina. Noi ci proviamo lo stesso, sono contento comunque di essere arrivato fino a questo motivo. E direi di iniziare subito a riscuotere tutto l'oro che abbiamo da riscuotere. Quindi abbiamo questi 200 di oro, questi altri 200 di oro che non fanno mai mai, quindi siamo già a 400. Guardiamo se abbiamo altro oro in paglio. Oh, 300 di oro, ottimo. E poi 500 di oro, diamo la botta finale. E abbiamo finito. Tutto l'oro che abbiamo da riscuotere l'abbiamo riscosso. Altre valute da conquistare sono queste 20 gemme che non fanno male, siamo a 90 gemme, quindi GG per noi ragazzi, GG per noi. E iniziamo con le reazioni. Abbiamo innanzitutto questa reazione di Relu con le gemmine, molto molto carina. Abbiamo questa reazione di Relu arrabbiato, quindi ancora molto bella. Questa in cui piange, perché è necessario comunque. E questa qua invece in cui c'è la gemmina carina, carina, carina. Questa qua sinceramente non ho capito bene che cos'è, sarà il cuoricino, il classico cuoricino speciale che mettono di solito. Qui invece abbiamo il pollicione all'ingiù, quindi quando sarà arrabbiato. Qua invece il Relu stupito. E qua invece col cioccolatino in mano. Prima di questo andiamo a sbloccare la nostra skin, che andremo anche a provare all'interno del video. Quindi guardatelo tutto perché andremo anche a provare la skin. Skin veramente bella. Ok ragazzi, ci siamo. La skin l'abbiamo sbloccata, come vedete andiamo subito a selezionarla. Ecco il nostro Relu con le adeguate emoticon. Abbiamo delle emoticon abbastanza speciali, direi di metterne un po' perché sennò qua non le selezioniamo mai. Ci dimentichiamo sempre di avercele. E non è male magari metterle, ecco. Un'altra cosa che però è ancora da sbloccare penso sia il pacchetto di razioni. Ma lo apriamo a fine video. Prima di tutto iniziamo a provare un game con questa skin in random. Guardiamo come va. Siamo con una Sandy e una Jackie e cerchiamo di giocarcela bene. La skin è molto carina, spara questi conetti gelato, se si possono chiamare così, ecco. Che sono molto... Sì, fanno sembrare, diciamo, effettivamente di avere un re, ecco. Quindi allora direi di mettere subito il ghiaccio là, così magari li destabilizzo un attimino. Guardiamo se riesco a far fuori il coso. Allora, noi dobbiamo fare molta molta attenzione. Qua il congelamento sta funzionando. Diciamo che se ci fosse... Ottima Jackie. Ottima giocata da parte della Jackie. Riusciamo a far subito l'1-0. Adesso dobbiamo soltanto tenere testa. E guardiamo se riusciamo a chiudere questo nostro Lou a 700 coppe. E lo lasciamo lì a 700 coppe che sta molto, molto bene, devo dire. Sta molto, molto bene. Bravissima la Jackie che riesce a tenere testa. Io qua potevo giocarmela decisamente meglio. Il pinguino viene rallentato, quindi Sandy può andare benissimo su a conquistare terreno. E io sto qua in difesa, aspettando il nemico al varco. Quindi allora, dobbiamo fare molta attenzione col Mortis perché è molto pericoloso, veramente tanto. Ragazzi, cioè, ha fatto un gol clamoroso. Bellissimo il gol da parte del Mortis. Non potevamo fare assolutamente niente, anzi. Veramente complimenti. Devo dire che ha fatto un gol che non me l'aspettavo. E quindi niente. Sta già chi forse riesce ad entrare. Non è riuscito ad entrare. E niente. Adesso dobbiamo parare la rimonta. Speriamo bene, ragazzi. Speriamo veramente bene perché è proprio il match point anche delle 700. Quindi ci terrei, ecco. Mr. P è diventato veramente forte perché fa molto, molto, molto danno. Questa Jackie, in teoria, grazie al mio rallentamento e tutto, riesce a fare il suo. Io riesco a incalazerare il nostro coso. Dobbiamo fare soltanto attenzione al Mortis. Ma niente. Ho sbagliato il gadget, però meglio prevenire. Qua non è un problema. Qua potevo giocarmela meglio anch'io. Sì, sì, sì. Potevo giocarmela decisamente meglio. Questa Jackie non avrei provato il trick. Avrei fatto gol se avevo la possibilità. Bravissima. Riusciamo ad arrivare con il mio Lu reale a 700 coppe. Quindi il traguardo che volevo raggiungere l'abbiamo raggiunto. Un altro brawler a 700 coppe. Anche un'altra cassa, diciamo, sbloccata. E quindi è arrivato il momento di andare ad aprire l'ultima ricompensa di oggi che è questo pacchetto di razioni. Sperando in un emoticon epica. Ed eccola qua l'emoticon epica che tutti aspettavamo. La nostra Jessie col cuoricino. Molto molto caruccia. Però dobbiamo andare a selezionare l'emoticon. Perché sennò non la potrò mai utilizzare. Eccola qua la nostra emoticon epica. Che bella. Molto molto bellina quest'emoticon. Direi subito di andarla a provare molto veloce così in... Qua non si può provare. No, scherzavo malamente. Questo è il mio profilo. Ho tre brawler a 800. Un po' a 750. Quasi tutti a 700. Devo finirsi a 700 entro lunedì. Ma penso di finirli senza grossi problemi. Il video finisce qua. Io spero che vi sia piaciuto questo contenuto. Anche se è un po' più innovativo rispetto al solido. Fatemelo sapere anche attraverso un commento. Io vi rimando a domani alle 14 dove uscirà un altro video. Come sapete qua sul mio canale ormai facciamo sempre video tutti i giorni. Da quando è riniziata la scuola come vi avevo promesso. Fatemi sapere che contenuti portarvi. Pensavo di alternare un giorno Bumbici, un giorno Among Us, un giorno Brawl. Per tenere attiva tutte le community del mio canale. Siamo quasi a 7000 iscritti. Quindi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E abbonatevi e donate. Se ne avete le possibilità. O comunque avete la voglia di supportare questo mio progetto. Noi ci becchiamo sempre qua sul mio canale domani alle ore 14. Ciao gente! Noi ci becchiamo sempre.